Benvenuti nel nostro canale, dove esploreremo la vita e la carriera di una delle attrici più affascinanti e talentuose del cinema italiano, Florinda Bolkan. Attraverso questa serie di video vi porteremo nel mondo affascinante di questa icona del cinema, svelando la sua storia, i suoi ruoli indimenticabili e il suo impatto duraturo sull'industria cinematografica. Florinda Bolkan è nata il 15 febbraio 1941 a Uruburetama, un piccolo comune nello stato di Seara, in Brasile. Il suo vero nome era Florinda Suarez Bulcao. Non sono disponibili molte informazioni dettagliate sui suoi primi anni di vita. Si sa che Florinda Bolkan si trasferì a Roma, in Italia, nel 1959, all'età di 18 anni, per studiare recitazione presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Questa scelta segnò l'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Lasciando il Brasile per perseguire la sua passione per la recitazione in Italia, Florinda Bolkan ha dimostrato determinazione e ambizione nel perseguire i suoi sogni. Il suo talento e la sua bellezza le hanno aperto le porte nell'industria cinematografica italiana, facendola diventare una delle attrici più acclamate degli anni 60 e 70. La carriera di Florinda Bolkan come attrice è stata caratterizzata da una serie di ruoli notevoli e interpretazioni intense. Dopo aver completato i suoi studi presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma, ha iniziato a lavorare principalmente nel teatro, guadagnando notorietà per le sue performance appassionate e carismatiche. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1967 nel film La notte è fatta per rubare, diretto da Giorgio Capitani. Tuttavia è stato il film successivo, La strategia del ragno, 1970, diretto da Bernardo Bertolucci, a farla emergere come una delle attrici più promettenti del cinema italiano. La sua interpretazione nel ruolo di una donna misteriosa e complessa le valse un David di Donatello come miglior attrice protagonista. Negli anni 70 Florinda Bolkan ha continuato a ottenere ruoli importanti in film italiani di successo. Ha lavorato con registi come Mario Monicelli, Lucchino Visconti e Francesco Rosi, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di interpretare personaggi complessi. È stata anche scelta per ruoli significativi in produzioni internazionali, lavorando accanto ad attori di fama come Marlon Brando, Richard Barton e Charlotte Rampling. Uno dei ruoli più memorabili di Florinda Bolkan è stato quello di Iguana, una donna mentalmente instabile, nel film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970, diretto da Elio Petri. La sua interpretazione, intensa e disturbante, le valse un'altra nomination al Davide di Donatello come miglior attrice protagonista. Durante la sua carriera Florinda Bolkan ha partecipato a importanti festival cinematografici internazionali, tra cui il Festival di Cannes e il Festival di Berlino. Ha ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro sia in Italia che all'estero, consolidando la sua reputazione come una delle attrici più talentuose e apprezzate del suo tempo. Negli anni 80 e 90 Florinda Bolkan ha continuato a recitare in film e serie televisive, anche se ha ridotto gradualmente la sua attività nel mondo del cinema. Successivamente ha deciso di ritirarsi dalle scene e dedicarsi ad altre attività. La carriera di Florinda Bolkan è stata segnata da interpretazioni intense e apprezzate, contribuendo al panorama cinematografico italiano e internazionale. La sua bravura e la sua presenza magnetica sullo schermo hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema. Si sa che Florinda Bolkan è stata sposata due volte. Il suo primo matrimonio è stato con l'attore e regista italiano Enrico Maria Salerno, ma il matrimonio è terminato con il divorzio. Successivamente si è sposata con l'attore tedesco Thomas Frisch, ma anche questa unione si è conclusa con il divorzio. Dopo aver deciso di ritirarsi dalle scene negli anni 90, Florinda Bolkan ha scelto di vivere una vita lontana dai riflettori. Purtroppo la sua salute è peggiorata a causa dell'età, riesce a malapena a camminare ed è stata in casa solo negli ultimi anni. Se sei affascinato dalla carriera di Florinda Bolkan e decideri scoprire di più sulla sua vita e le sue interpretazioni, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Qui troverai ulteriori informazioni, curiosità dietro le quinte e approfondimenti sulla carriera di questa straordinaria attrice. Non perdere l'opportunità di esplorare il mondo del cinema attraverso gli occhi di Florinda Bolkan. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e la carriera di Florinda Bolkan. Ci auguriamo di vederti presto sul nostro canale.